Fino ad ora abbiamo parlato di coscienza, abbiamo avanzato alcune ipotesi, abbiamo parlato della teoria di Searle, un po' di quella di Dennett, però non abbiamo ancora visto all'opera cosa si intende con coscienza. Abbiamo detto che ci sono degli esperimenti che mettono in evidenza il fatto che il tempo dell'esperienza non ha accesso al tempo della computazione neurale. Abbiamo accennato ad alcuni esperimenti che invece ci avrebbero fatto vedere proprio come il tempo dell'esperienza non ha accesso ai tempi della computazione neurale. Guardiamo queste due figure, la figura A e la figura B. Se viene chiesto qual è tra le due la figura più grande, quale appare come figura più grande tra E e B, probabilmente, se uno non ha mai visto il test, dirà che la figura B è più grande della figura A. Cioè, si è coscienti che la figura B è più grande della figura A. Qui non stiamo discutendo su che cosa significa in questo caso più grande. può significare più esteso, di dimensione lineare più grande e indefinito. Fatto sta che comunque si risponde B. Naturalmente, e si parla quindi di illusione ottica, uno dei test della Gestalt, psicologi, naturalmente noi non è detto che le cose stiano così. Se noi prendiamo B e lo sottoponiamo, lo sovrapponiamo ad A, vedremo che A e B hanno esattamente la stessa estensione. Ora, neanche quando l'abbiamo già visto, se noi riponiamo B sotto A in quella posizione lì risulterebbe che B è uguale ad A, alla stessa grandezza di A. Ciò significa che ciò che la computazione neurale computa in quanto esperienza non può essere modificato dal sapere che le due figure A e B hanno la stessa estensione. Quindi vi è una differenza tra ciò che appare è ciò che in un secondo momento, effettuando la traslazione da B ad A, possiamo dire che è. Ne vediamo ancora uno di questi piccoli test. Questo è il secondo. Anche questo è conosciuto come un'illusione ottica, eccetera. In questo caso, tutte le rette che appaiono, appaiono come non parallele, e anzi come curve, delle rette curve. Questo molte volte viene presentato come un test per dire che la coscienza opera sempre in un contesto, ma anche in questo caso noi possiamo affermare che ciò che viene computato dalla computazione neurale è l'esperienza. vale a dire che ci appaiono queste linee come linee parallele. Il tempo dell'esperienza o lo spazio dell'esperienza non è lo spazio della computazione neurale e questo lo si vede in questo caso qui abbastanza chiaramente. Naturalmente, se noi prendiamo un righello vedremo che queste linee non sono affatto storte anzi, tutte dritte, tutte parallele, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso vediamo che la computazione neurale computa che cosa? Computa un'esperienza. ma non vi è uno spazio in cui uno spazio geometrico in cui collocare necessariamente questa computazione neurale il rappresentato dalla computazione neurale e questo ne è il secondo esempio. Ora vedremo ancora un esempio un pochettino più delicato da capire. In questo esempio il tempo dell'esperienza si associa allo spazio dell'esperienza e mentre vediamo un oggetto i nostri occhi e perciò le nostre immagini retiniche reagiscono ad esso spostandosi sappiamo che reagiscono ad esso spostandosi 20 volte al secondo eppure noi vediamo un oggetto stabile ed immobile e non abbiamo alcuna coscienza della successione di vari input o della loro composizione nell'oggetto. Con questa immagine qui si ha una una per così dire si può avere l'esperienza della falsa rotazione dei cilindri in questi punti sembrano dei cilindri che si sta a guardare sembrano ruotare anche se di poco proprio perché noi non abbiamo coscienza dei cosiddetti movimenti saccadici degli occhi ma questa mancanza di consapevolezza sta a stabilire che comunque anche durante il movimento saccadico vi è una computazione neurale e questa stessa computazione neurale produrrà dell'esperienza questa esperienza ci può indurre a vedere un movimento che è inesistente un falso movimento questo piccolo test è un primo modo per vedere come il tempo dell'esperienza non è il tempo della computazione neurale ed il tempo dell'esperienza non ha accesso ai tempi della computazione neurale ne vediamo ancora uno anche in questo esempio noi possiamo cogliere un movimento un leggero movimento che in realtà non esiste dagli ultimi due esempi possiamo dedurre possiamo capire che il campo dell'esperienza è costituito comunque da uno spazio e da un tempo proprio uno spazio dell'esperienza ed un tempo dell'esperienza spazio dell'esperienza e tempo dell'esperienza che non hanno accesso agli spazi e ai tempi della computazione neurale uno dei video che ho registrato si intitolava le due identità cioè avremo un'identità dell'essere ed un'identità dell'apparire e questi esempi ci fanno proprio toccare con mano quanto le due identità siano realmente veramente due identità distinte e separate ciò di cui tratta la logica dell'apparire e quindi il problema della coscienza è proprio questi spazi e questi tempi dell'esperienza questi spazi e questi tempi dell'apparire ma vediamo ne vediamo ancora vediamo ancora qualche esempio per riportarci alla letteratura a cui fa riferimento lo stesso Dennett questo è l'esperimento di Kohler's Grunau a cui Dennett fa riferimento nel suo quinto capitolo per introdurre le molteplici versioni ciò che c'è da notare in questo esperimento è il fatto che si ha l'impressione appare il movimento del disco rosso e del disco come un movimento che va dal disco rosso al disco blu questo disco è sempre lo stesso diventa blu azzurro quello che è ma non si sa definire bene il momento in cui diventa azzurro con un po' di sforzo possiamo capire in questo caso dove ho messo un tempo per così dire che ci può permettere di intuire come stanno le cose e come la coscienza e come appaiono le cose alla coscienza il punto è si vede il disco rosso diventare azzurro nel tratto che porta il disco dalla prima posizione alla seconda posizione dalla prima posizione a sinistra alla seconda posizione a destra questo è da tenere presente per la discussione che faremo sull'interpretazione che di questo esperimento dà Dennett ora ne vedremo ancora uno sempre la questione che dobbiamo mettere a fuoco è tempo dell'esperienza in confronto al tempo della computazione neurale il tempo dell'esperienza non ha accesso al tempo della computazione neurale si tratta in questo caso invece di osservare il movimento di questi due rettangolini che sembrano due tracce di scarpe gialla e blu guardare bene come appare questo movimento questo movimento appare come un movimento alternato in avanzamento del rettangolino giallo e del rettangolino azzurro anche qui vi è una computazione che computa un tempo dell'esperienza un ritmo dell'esperienza che in realtà non c'è perché il rettangolo giallo e il rettangolo blu si stanno muovendo alla stessa velocità non c'è nessuna alternanza dell'uno e dell'altro l'alternanza è dovuta alla presenza del bianco e del nero eccetera ma questa non è la cosa importante la cosa importante è che la computazione neurale ci dà la possibilità ci dà all'esperienza un tempo ed un ritmo che non è quello da cui parte la stessa computazione neurale è quello della nostra esperienza che è diverso da quello dell'evento che è utilizzato dalla stessa computazione neurale grazie grazie a tutti